Fibre, tosse e raffreddamento, che sono i sintomi, per esempio, i dolori articolari, che sono, mi hanno detto, i sintomi abbastanza consueti, insomma. Non ho avuto, per esempio, la perdita dell'olfatto, che peraltro in questi giorni ha avuto anche mia moglie, quindi probabilmente l'ha fatta anche lei, ma è rimasta poi sempre in casa. E, ecco, però ho avuto quei sintomi che penso siano sintomi abbastanza consueti. Ecco, all'inizio avevo la febbre alta e il raffreddamento con tosse e i dolori articolari, che effettivamente è un po', ma sì. Però, ripeto, penso che il rispetto a chi è andato all'ospedale, ha avuto l'ossigeno con la mascherina, o addirittura intubato, penso che davvero sia stata una fortuna per me. Più di due settimane, prima del primo tampone di controllo, perché i primi sintomi li aveva avuti venerdì di tre settimane fa, venerdì pomeriggio sera, pomeriggio sera. E il risultato giovedì mi hanno detto è positivo e quindi non faccia il tampone oggi, ma lo faccia martedì prossimo e vediamo martedì come va. Quindi martedì sono 25 giorni, ecco circa. L'RSA aveva fatto quello che chiedevamo, cioè fare un'analisi a tappeto dei pazienti per isolare la parte Covid e la parte non Covid. Secondo, o primo, ha la stessa importanza gli operatori sanitari. Operatori sanitari che hanno contratto evidentemente il virus, alcuni non hanno ricevuto tampone, ma non va bene questo, perché anche nel ritorno all'RSA andava fatto, quindi sugli operatori sanitari bisognava farlo e rifarlo, e adesso sicuramente bisogna continuare. I presidi, noi li abbiamo procurati come comune, noi li abbiamo procurati come RSA, ci siamo mossi da soli, però è chiaro che anche qui i presidi, da chiunque arrivassero, voglio dire, da organismi superiori, erano necessari. Allora li abbiamo procurati con le ungue e con i denti, trovandoli da diverse parti, però erano assolutamente necessari ed indispensabili. Poi le ricordo un'altra cosa. Noi abbiamo fatto una scelta, che era una scelta non in linea con le regole e con le indicazioni regionali, abbiamo fatto la scelta di tenerle chiuse le RSA, cioè di non tenerle aperte ai pazienti, ai parenti, dolore e sofferenza del distacco, ma abbiamo fatto questa scelta come i CDI, cioè i centri anziani, li abbiamo tenuti chiusi, nonostante le indicazioni regionali andassero in un'altra direzione. Allora noi abbiamo fatto, come dire, delle scelte in autonomia e ci siamo procurati, si sono procurati, io parlo adesso in particolare di quella che conosco meglio, che è Cremona Solidale, si è procurata, ma essendo comunale evidentemente c'è stata una sinergia ed una condivisione, si è procurata il materiale da solo, poi ha fissato l'inizio dei tamponi, poi sono arrivate le indicazioni che i tamponi andavano fatti e adesso continuiamo a farli con una strategia, isolare Covid e non Covid, quello che le dicevo prima. Serviva una strategia, serve una strategia coesa a livello di tutte le RSA, questo serviva. Nessuno ha mai detto a tappeto sui 10 milioni di macchini, l'ha mai detto, nessuno, ma serviva una strategia, adesso serve questa, così come per i pazienti Covid non acuti, quindi di rientro, come dire, non vanno messi nell'RSA, non vanno messi nell'RSA, non vanno messi nell'RSA, perché è uno sbaglio, è un errore strategico fortissimo, anche se c'è una disponibilità.